via coroni 30 raggiungi sant'antonio e corso della repubblica anche a piedi è vicinissimo vi proponiamo l'acquisto di un primo piano di 130 metri quadri sito in una palazzina in cemento armato di soli tre piani di soli sei unità abitative siamo entrati e sulla sinistra abbiamo la cucina un'ampia cucina con uscita su uno dei due balconi lato frosinone questa è la strada dei diacoroni il campanile di frosinone palazzina in cortina come vedete struttura degli anni 80 ritorniamo sul corridoio adiacente la cucina c'è il soggiorno poiché come vi dicevo è un palazzo in cemento armato a livello interno la maggior parte dei muri sono tramezzi e quindi potete tranquillamente modificare l'immobile a vostro piacimento abbiamo visto il bagno con la vasca questa è la camera da vetto matrimoniale con uscita sul secondo balcone che gira ad elle sui due lati del palazzo con vista invece torrice lato sud rientriamo in camera proseguiamo sul corridoio e qui abbiamo una seconda camera da letto la terza camera da letto considerato che è una struttura degli anni 80 come potete immaginare potete vedere le camere sono ampie e questo è il secondo bagno finestrato anche questo questo è il secondo bagno finestrato anche questo è il secondo bagno finestrato anche questo